ciao a tutti ragazzi benvenuti sul mio canale sono io sofia io benedetta oggi benedetta serve a farci compagnia perché andremo a prendere due giochi di veicola sofia ha preso il baby baby magic surprise dentro un baby sonnolino 14 ciucci e una sorpresa io invece ho preso il lingottini surprise che all'interno c'è il kit da scavatore due pietre preziose oppure una speciale di 24 carati andiamo ad aprire oreo 24 carati non so se ci va l'acqua non c'è scritto niente c'è una pinza ma aprite da sotto no aspettate questo l'abbiamo pagato 4,99 questo pure 4,99 apri questo io apro aperto questi qua sono i ciucci guardate questo personaggino dentro c'è un cuscino ma queste sono per fare le collane col cuscino vedete sono di varie forme ma sono soprattutto grandi ma non si può mettere in bocca perché chiusa la bocca ragazzi consigli di mettere quello che devo ragazzi questo è la roba più dolce del mondo e noi intanto andiamo avanti ad aprire il lingotto mi vuole pensare aspetta ragazzi spostate tutto qua sotto c'è quello per dammi il cuscino aspetta questo è il cuscino per i baby oh cavolo ragazzi c'è un problema è bloccato nooo no e devi scavare questo è quello per scavare ragazzi lo tiro qua e poi vi faccio vedere ti aiuto ok ragazzi l'ho tolto vedete c'è una specie di spazzolino pennello sì pennello per pulire e questo ok si dice qualcosa vuoi che ti aiuto no ragazzi c'è qualcosa di azzurro vuoi che ti aiuto no no ma cosa puoi trovare delle pietre preziose dentro non c'è nessuno o due o una speriamo una gigante che bello ragazzi è blu la pietra vi consiglio appunto di mettere sotto un piattino altrimenti sporcate il mondo come sta facendo Giulia ma lei c'ha sotto la panchina allora infatti cioè sto sporcando per per colorare ma cosa oh oh colora è incastrata benissimo non si tocca era logico che era incastrato non pensavo così bene vedete vedete scusate non so se si vede che vedete si vede non so ok va davanti oh ne ho visto un'altra c'è neanche un'altra bianca allora due ho preso no massimo due che forza però guarda guarda un po' sotto magari io disegno a a b oh ragazzi ora si è tolta che bella puoi vedere ma aspetta devo farla vedere poi dopo le laviamo e ve le faccio vedere no dammi un attimo un pennallino no aspetta ma che cavolo ma ce ne son tre c'è anche un'altra ah no ragazzi ce ne son tre c'è un'altra roba qua ti ha scritto che c'erano dentro due ma vado a lavare ce l'ho detto non so se oh guardate Giulia te l'ho detto eh ma non so qua c'è scritto vabbè continuiamo a scavare io mi so ah ho capito due pietre preziose oppure delle pietre normali ok ma cosa ti sei fatto tagliata no no ce l'avevo già o poi l'hanno sbagliata oh che bella che bella pietra adesso scavo io no aspetta un attimo quando hai quasi dammi metta ma questa qua questa è bella sono tutte pietre bellissime adesso tiro fuori anche questa bianca poi non so se ce ne sono dentro ma è gigante ragazzi vabbè ho sporcato il mondo però non lo metti che dentro dai dammi un attimo dammi un attimo dai vediamo se c'è un'altra non credo però aspetta che ti faccio vedere se la trovo ce la faccio scavare no 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 ci provo io ma età non ci riesco dai 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 non so magari qua lato c'è qualcos'altro dobbiamo spaccarlo ma prova a spaccarlo un attimo con le dita no ragazzi non sa di no c'è una roba bianca sembra strano mi aiuti posso provare io adesso se trovo qualcosa vi faccio vedere ok ragazzi non temere che c'è dentro più niente quindi abbiamo trovato questa pietra azzurra un azzurro bellissimo poi questa qui che è sia azzurra ma anche no questo quello dei pezzi violetti diciamo e poi questa bianca molto bella invece Sofia ha trovato questo questa gombolina il cappello non si può togliere le scarpine si e il vestito non lo so ma no ok poi ha trovato i succi di varie dimensioni che si possono fare con la collana questo qui super carino che si può staccare la testa e va bene ma così possiamo fare finta che l'hanno ucciso qualcuno che tragedia e poi e questo cuscinetto quindi ragazzi io ancora sto scavando per vedere cosa c'è se questo vi vi è piaciuto mettete like iscrivetevi al canale attivate la campanella per nessun video e noi ci vediamo domani con un nuovissimo video ciao 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 ciao